Marto! 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 che mi era un passavaggio ha ritrovato molto più di risposta se avessi chiesto a te ma non fai niente non posso farlo ora mi sento scontato mi sentirei di dire che il viaggio cambia o no e il punto di farci sembra ormai così in realtà la meta non è un posto ma è quello che troviamo e non sappiamo dove né quando ci arriviamo trascorsi i giorni interi senza dire una parola crediamo che fossi davvero lontano sapessimo prima quando partiamo che il senso del viaggio è la meta e l'ultima e il punto di farci è la meta e l'ultima che non è un passavaggio 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 e non sentirei di dire che il passavaggio avessi trovato molto più di risposta se dovessi chiesto a te è un passavaggio che non è un passavaggio che non è un passavaggio se dovete dire qualcosa a qualcuno che amate non aspettate mai ditelo subito grazie 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 grazie